lo stiamo facendo la vita della signora ma va a scegliere una buona stufa per letto ma va a scegliere questa riciclazione mangia male va bene vai va come al solito cercare una vicina ma qui dice saccheggia saccheggia e cattura non fa saccheggia e cattura niente però scelta dell'arie operabilità del taglio marcato forcare ma proprio che è un marone, pure il cancro venire, guarda che è scherzata poi mi è gemmisa la parte, ma non è strutturato, pure il cancro occhio in alto Ehi, che ci si vede Vieni pure a me, non c'è qua Beh, benveni Ma perché stai? Sì, se facciamo troppo a lui C'è un hit Ma chi le grazie Chi le grazie a chi sei là che fanno i morti? Occhio in alto Chi le grazie a chi sei là che fanno Ehi, che c'è qua Troppo tempo Non mi chieda molto Pissà Ho fatto vedere sceso nell'aria Occhio in alto Ho fatto che il suo uomo è chiudo in pronto Ehi Ehi, che c'è qua Oh, hai detto che hai detto uno Buono! Mi ha cagliato pronto Ma chi sarà? 1, 2, 1, 2, scena 3.000 Ah, questo non è pianto Ma che arriva era uno in terra Invece non è pianto, non è vero Occhio in alto Ehi, che c'è qua Ci troppo Un paio Un paio Un paio Un paio Un paio Un paio quando si lascia che non vuoi, quando si stia facendo? eeeh occhio in alto non fa la crew, aveva trovato una bustoria quando si arrona? ah, quando vuoi ci vuoi? sei molte quando vuoi ci vuoi? dico vuoi non mi vuoi ci vuoi ma non mi vuoi ci vuoi ma vieni andrò ci vuoi aprire? ma non mi vuoi ci vuoi? ma non mi vuoi ci vuoi? vai allenamento finito inizia la vera battaglia eh sì ma non mi è piaciuto il kill 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 ahah ma superstore a superstore voglio fare amza palazzo che tu lo so che fate voi? ragazza se siamo vicini andiamo a Vingovete va aro? guarda mi si ingarangione Vingovete Vingovete vado a Vingovete ah qua tu siete qua ok ohhhh il motivo principale è l'eliminazione dei versaggi ah ma che sto facendo divertirlo ma che sto condividendo un attimo guarda si dirà guarda si dirà vado a Valle a Vingovete vingovete non c'è un rea non c'è un rea ah ah non c'è ah già va bene te la dammi te la dammi sei la smorgista non c'è un rea non c'è un rea ma su questo ahah non c'è un rea oh oh non c'è un rea oh oh se ne va a culo a culo dammi lo cazzo oh non mi vado mai la fatturare non mi vado mai la fatturare ah ah comunque dobbiamo stare vicini ah ah non sto e non ci arriva e ci arriva vicino a voi ah ah ci arriva vicino a Pallo ti arriva vicino a Pallo che io faccio il problema ma ci arriva vicino aspetta a Pallo tu hai colpo ah ti guarda tu Ruff? eh ho capito ma ma ci arriva ci arriva ci arriva a Pallo a Pallo a Pallo a Pallo a Pallo dove è? ah ci arriva a seguire quando sto correndo come abbiamo una PING escono sempre là a meno che eh così no non riesci a capire guarda te ma guarda te sono una PING verde comunque ok almeno ce l'ho vicino a PING perdi ci sono eh tu riesco sta arrivando il gas sta arrivando il gas correndo un po' dentro si si è davvero perché ora arriva il gas ah ma che cazzo fatti cazzo tu non non giù non ok stop 50 500 ok 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 buona madame la miseria stanno tre re una vicina nata un po' cosa lì un po' qui, un po' qui la torre di controllo cerchi sempre di venire lì, guarda se ti abbassi un po' qui sotto vieni qua 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 qui salve la mia macchina non è cosa la macchina non è il caso la macchina non è il caso ma non stai sta là in gruppo quello che è sto cercando di scendere ma non c'è la faccia c'è un po' più che c'è l'estero, o no? ragazzi c'è l'estero, ma non c'è il po' più invece ma non è che ci sono come beh, è che così è che uno non fa ragazzi, non è molto alto Stai a correre! Vado qui! Gia a chi suscia mai! Ma che stai a correre? Ma che stai a correre? Ma che stai a correre? Bombardamento di discusione alle avviene. E' cinque di scelte all'anno intenzione. UAP alleato in zona. Sul volo avviato. Attacco a grasso. Atacco alleato in attacco. Tassi e in discesa all'aria. Parli attacco in volo. Troppo attacco. Rottiamo attacco. tu gli è ruttato ma voglio che siamo settima posta vado a me mi sbarano in arrivo spostamento della zona scura in discesa nell'area operativa UAB avanzato oooh è di continuare a sui stupi prima oh è su qui dentro oggi Vado qui Vado qui ma tu stai andando a romperlo cazzo a pizze a pizze a me ma mi trovo sempre a nanzi a chi io mi trovo sempre a cecchino per denanze facciamo no ma proprio se sciogliere io sono pronto com'è possibile sta cosa? non lo so vedi i mischi di cazzo pronti all'attacco faccere boh mannaccio fra una vileccia ricevuto attacco 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 che attacco no a polizzi oh oh ah la legge da fuori ma eh a me vai avan 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 non si è all'azienda ma è il facciano sto a me mi muovo di qua me non decilo mi muovo di qua 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 Bocca con il tipo in arrivo C'è uno è buono Poi si potenzia giurati Se la peserà Ti vedi che la cuscita si fa Portugas Ma non sto sto sceme C'è una miseria, è stata un po' scato Allai Ma non lo sai? Stai a fare questa merda Sto sceme Sto sceme Sto sceme Sto sceme Ma c'è una pronta si tu Paolo Alla dove? Ma la bambina che non ha una parola Sto sceme Sto sceme Ah va 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 Hai fatto bu Sceme Ma Non ha Ma Ho ola Mi Ho Ecco Comunque Mi ha fatto un scasso Ma Paletto si 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 è perché andrea dice possiamo fare la partita 5 è che andrea chi prea il reggimento è meglio ma venga papà e c'è sto dice sopra ma ma come fa multigiocatore ha avuto i giocatori schi 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 oh io ci bloccano i miei ma si è messo a facciare una respa mi sembra ovvio bloccato ma non via fago tu che tina sblocca scusa la migliore la cosa la testa ecco qua vabbè la vita la si guarda come c'è ma costa assai con offerte buone si pare che vuole però ma guarda che la riusci 50 ti ha chige no che li ha 5.500 a burra fama duck e tiene scusami 570 di scadama come amici ad un po mi prendo la b 550 o magamma fa non è andrei leggino paura non so non so il camera è fresco non è fresco è fresco bello bello mi piace il canne ma che ci fa l'omotigre costo dovresti tutt'avuti è entrato per parlare andrea buonasera ciao andrò ciao andrò che dobbiamo dove ci buttiamo se non volete fare molti ce ne rendiamo solo molti noi no no possiamo fare molti che cosa vogliamo fa passiamo innanzitutto su multispa che cosa vogliamo fare partita veloce guerra terrestre scontro quale obiettivo quindi ci sono cose che non ho mai fatto guerra stellare andrea che vuoi fare andrea ma per me è uguale è start a 1 partita veloce eh non lo so ragazzi non è che mi sono vai ma no ma quello poi partita veloce va in base a quello che io ho settato però eh dico tu hai settato quelli a turni hai capito perciò dico io che cosa vogliamo fare allora aspetta ti dico quelle che non sono a turni cioè quelle dove si gioca sempre che respawni sempre mh aspetta eh ah non me le fa vedere dimmi le due e dico se a turni o no allora ci sta in partita veloce c'è tutti contro tutti attacco informatico dominio no cerchi e distruggi quartier generale dominio si cerchi e distruggi no quartier generale si uccisione confermata demolizione mosfet e hc 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 l'ultima non so cos'è ok allora quale vogliamo fare dominio è quello che ti dicevo allora dominio dominio uccisione confermata cerchi e distruggi mosh pit 10 contro 10 e qual'era l'altro deathmatch a squadre no deathmatch a squadre si ci sta deathmatch a squadre e tutte le altre sono a turni cioè che se io muoio aspettiamo tra i tanti e mica cambiano le 3 per di la band allora fai una cosa Andrea fai tu la lobby e te li tieni tu davanti così vedi tu che vuoi scegliere ok aspetta ok aspetta ok aspetta ma sei mai esco c'è un video allora questo è il primo problema anzi ma m face gioco il set nè che è l'aggia che usa ah ok ok ci sono un attimo che mette a posto le armi ma luce modifiche qui faccio a bene quale che tutte le volte qua molto cari fa tutte le armi ecco qua ah beh falle falle un attimo mi scuso io ho per esempio le armi qua no si devi sceglierti le armi che vuoi usare come faccio allora come faccio il canno grau arma secondaria allora tolgo il fantasma metto risposta eccessiva e tracciando a posto qua certo giusto un attimo jack jack a posto ehi ragazzi buonasera buonasera a posto ehi tutto a posto oggi si si tutto a posto che che sei da fa ma sono stati giovanili e non so c'è manco chi ha spesso perché non so se andrea o andrea no ehi bamba è andrea bamba ha giocato no ehi ma ci fa tra la voce andrea tutto a posto come sta tutto a posto voglio come sta tutto a posto si tutto a posto ma fa possiamo partire per me si ma voglio ehi ma ci fa saltare eh voglio lo guarda ma ci fai un eschio a dopo dai ci becchiamo dopo vai start andrea ok io di solito il multi lo faccio stranamente sempre da solo come io e multi di solito lo faccio stranamente sempre da solo ma praticamente siamo reggimento contro reggimento ma vista ahah ha ha ah 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 Nellosite l'obstano! L'organizzazione, l'acquattamento! Non lo soggio, non lo soggio, non lo soggio! Non lo soggio, non lo soggio! Non lo soggio! Non lo soggio, non lo soggio! Contenzione identificata! Assaltate l'aria! NEMIGO! Negozi! Ciao ragazzi! NEMIGO! Negozi! NEMIGO! Cambio caricatore! Vabbè, sei tu! Mi hanno occupato la postazione! NEMIGO! 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 Ora cava, noi siamo i verdi e loro sono i blu, giusto? Sì, pensa di sì! NEMIGO! 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 Stiamo a 34. No! unseenweisen a zero. Abbiamo la postazione! oh postazione persa posizione sicura approvvigiona tutto alleato in arrivo ah vabbè sa quello col cecchino che fa la strage dalla postazione contesa è sempre pronto questo cecchino sto ammendendo l'unico in volo ah sei tu guarda? beh si nemico! stringere! postazione in movimento! oh! sciama! ho avuto un tempo proprio per ieri c***o ladrino su scema! bombardamento di precisione nemico! giù! spiegato se è andata a parte nemico! cortile! postazione persa! sono arrivati a metà! cambio caricatore! mi hanno colpito! oh! bombardamento di precisione nemico! giù! granata lanciata! guardate! cortile! correzza scudo o disposto, solo schia vuole Okay! mattuarre! Ok, con l'azione in movimenta Ok, con l'azione in movimenta nooo attacco a grappolo alleato in arrivo nooo ma chi sta sempre entrando a me v 무� forms de du batch vrac supervision vracó vracó Oh, c'è un ch... un ch... un ch... Ahahahahahahahah Abbiamo la postazione! Un ch... sempre per me! Pesa! Oh, quello! Ah, lo pss! Oh, guarda me! Che c'è qui da me! Che c'è un po' di 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 me! Oh, manch! Mi si è messo in tre l'oro! Vado! Paolo, ma lo sai! Ma io ne faccio! Questo è anche un po' di me! Ahahahahahahahah Uab i nemico in volo! Sto andando pure a sparare! Mi piacciono anche la ruota! E' stando in terra! C'è qua, Paolo! Che corro su uno! Bombardamento di precisione nemico! Uab i nemico in volo! Sooo! C'è un po' di existed! Nooo!! 1 muro un attacco a grappla! 3 BY stato purple! Il nemico alla postazione! pronti a muoversi devo ricaricare ok, postazione in movimento cambio caricatore nemico in zona postazione sicura amore oh mannaggia C'è un po' di chi non è un match e se fai i cazzi di voi, se facci me lo sceglie! Ma che ti ha promisato un cavallo, non c'è un ammere! Che ti ha promisato, se stai rompendo le ragazze! Un match! Un match, siete, non c'è nemmeno, ti dà a morte! Ah, non stavo lui, dove? Stavo sempre, vado! Guarda la pesta, vado, non stavo, non stavo! Niente! Senti! Senti! Ma mamma mia, non so se pare che sia il tuo stracione. Mentre le armine! Ho scelto, accorto! Cosa è? Noi! Chi è? Se è andato a fare polo e se è ambissima Mannaggia Ma perza, ce ne è distrutto Qua ce ne è sfumato Sei morto quando è fuori praticamente Eh vabbè Eh vabbè Ragazzi era solo il riscaldamento Sì 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 è certo Spera Infatti ci hanno bruciato Mamma è rucato Si spera Qua ce ne è fumato proprio Ce ne è fumo poco 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 Fumai Partite veramente Ma buco ti resta tutto tenere la c***a in un tuo gruppo E' essere più caldo Ma siamo 10 contro 10 Da 12 contro 12 e 12 No se sei simbolo No se sei simbolo No se sei simbolo Buon c***o Eh che è ancora peggio Ma perché mi cagliano la schiena a me Ma non mi racchia la c***a di fara Ma non mi caglio a chi sta Perchè t***a which mia Ma non mi c***o Ah non mi c***o Ah ah! non dove fu un godo, dove fu un mandino chi sei? tu sei un'una nuova? ma non sei me? non sei me, Paolo non c'è la squadra non c'è la squadra vai una squadra non c'è la squadra ma non mi fai così non c'è la squadra ma da chi la va indifferenza sparando per nudo quando c'è la bomba da bomba in capo ma è sicuro dove andiamo ma viaggiano i schiaffi ma viaggiano controllo uccisione confermata il caricatore molto meglio alla cazzo india corretta scudo disponibile annaccia ma i sindicati la mananza dei suoi compagni due sull'uovo cambio il caricatore missile cruise alleato lanciato a favore di un ribotto io scopo oh cacca cacca ho vizi oh ma chi stai controllo venmente in un gruppo via chi stai chi stai schiappa bro un nemico che stai schiappa bro voi non ne vedi qui stai chi stai quanto è qui stai Sì, sì, sta 8 metri, sta 8 metri da noi! Oh! Com'è stato il sacco da me? Mortacci tua! Cosa cazzo d'ora? Raffae, che ti sapertete, Raffae! Raffae! Ah, non lo so! Raffae, ma l'hanno fatta la mostra, Raffae! E' un ufficio che mi ha fatto! Raffae! 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 Raffae, Raffae! Sare di che stiamo vincendo teoricamente? Sì, ma chi? Raffae! Raffae! madonna mia guarda c'è un miscato di pensiero a chi cambia la prova come cazzo è possibile c'è un miscato di pensiero ma con me guardi non è possibile me lo trovo sempre dietro ma vabbè dai mortaccio Si Aplopo G Aplopo G Aplopo G Occhio, dove spari? Nemico, disgarica Approvvigionamento nemico in arrivo Nemico vicino al complesso Sparadone Tu avviti di scopo nemico Radar fuori uso Sono così Sono sotto dito Sono sotto dito Rieccomi in azione Ricarico Nemico, torre Devo ricaricare L'altro Cambio il caricatore Ricarico 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 NEMICO NEMICO MAGASSIN Vai Ce l'abbiamo fatta ma allora come non c'è sempre che uscire il film vinto ma vedi c'è un sesto quindi ci può giocare un altro con noi sì sì un altro sì 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 fino a 6 e quindi potrà giocare quel tipo di ma non serveva il multi è nuovo andrea non ce l'ha e molti la bella La odio questa Cosa è? Sempre qui Uccisione confermata Niente prigionieri Uccideteli tutti Contatto Nemico Ah questo è Ah rispettivo gli medaglietti E' bello E' bello Ma sto passivo Cazzo 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 Uccisione confermata Un po' di buone Un po' di buone Attacco a grappolo alleati Uccisione conferma! Nooo! Il guido all'alleato fornisce assistenza Il genico è di tipo distrutto Il genico è di tipo distrutto Quanti! Quanti! Apposizione il tuo alleato in arrivo. Non è confermata. Elicottero di supporto alleato in arrivo. Radar personale nemico in volo. E' un po' di uno. Ilicottero di confermata. che cosa ho trovato? io ho trovato ora non lo so di sepe, dovevi vai, non lo so nemico edificio distrutto attacco aggrappolo alleato guarda, ci stacca un muro e si è mai un carretto Alla paolo in descendo e vittu Confermata Sto、 pianciando goles taa Hai cappetti ma noi dobbiamo arraccogliere voltage Grazie, quale è il blu Non stai fuori In modo percorso non faccio altro che morì bene confermata attacco a grappolo alleato in arrivo ricarico non no 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 meno di un minuto il tempo passa dateci dentro dai raga mancano tipo delle targhette oh prendi la mia se prendi la mia mi sembra che non già pigliato vede le blu vengono l'uccisione dobbiamo prendere le rosse non vengono l'uccisione non ha già recuperato l'uccisione risparano ricarico vengono l'alleato fornito 30 secondi fai 49 uccisione confermata vengono lavanderia 6 missione compiuta straordinario non so che ha già fatto l'ultima kill ma non lo so no no l'ha fatto tu la fai vai va bene così e ciao ragazzi ci vediamo buonanotte ciao 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 buonanotte oh l'umature au mal High Do no ha io mai capito chi è cacce fatto mannacc � Grazie a tutti 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 Oh Grazie a tutti Grazie a tutti oh sta volendo sta volendo sta volendo sta volendo eh vuoi dare il cazzo lo curo mi dispiace dei soldi fai gli vale saggi vale saggi ah vado ma ci vediamo che ci ha un nuovo kiss vinci qui e ti rimandiamo in fronte andri va va sta volendo sta bene se abbiamo a kiss guadagnati il rientro vai ma avete piccato un'arma voi ma ci incarrate a tutti i fantaschi ma ci sbagliate qui facciamo ente ma ci è piccato un pochino manciamo manciamo hai perso lo scontro torna alla base stai 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 va ah guardate stai 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 Si, sono qui! Non ci sono già! Come andiamo a fare un po' di più! Non lo so! Non ci sono! Non ci sono! No, non ci sono! Non ci sono! Non ci sono! Vai da stacca! Ma chi è che spara? Chi è che spara? Avuto l'elicottero, eh? Sto avendo più l'elicottero, eh? Sto avendo più l'elicottero, eh? Sto avendo più l'elicottero! Sto avendo più l'elicottero... Sto avendo più l'elicottero... Si è un'eserata! Non vanno a che l'elicottero... Vanno a che l'elicottero, vanno a che l'elicottero... Vanno a che l'elicottero? No! No! Sto avendo più l'elicottero, eh? Sì, vieni! Questa è un'eserata, di singapore! Sto avendo più l'elicottero... ...doltre un'eserata, non lo vedi! Sto avendo più l'elicottero! Sto avendo più l'elicottero! Sto avendo più l'elicottero... Sto avendo più l'elicottero! Non voglio capire l'elicottero! Non so avendo più l'elicottero! Non posso prendere l'elicottero! Vabbè, vabbè... Vabbè, vabbè Vieni Oh, che soldi! Che vabbè? Vabbè! Vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè! Vabbè, vabbè! Oh, come soldi? Che soldi? Vabbè, vabbè! Vabbè, mettovano... Stai con la mia coppia! Che cazzo stai con me! Allora? Cambio posizione! È da dietro, vediamo! È da dietro! 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 L'abbiamo! Ero noi! Non vede! Non vede! Non vede! Stai con la mia mama! Vedi la mia mamma! Stai con la mia mamma! Cosa è che il percorso? Che è da dietro! Bello! Stai con la mia mamma! Stai con la mia mamma! Prima nemmeno chi? Sto a pensare a te, io andrei Eh, poi nemmeno lo do Ma ci prego, non lo so Ah, non c'è questo pochino Ulla a noi Ma non c'è, non c'è il robot senza mirino Sbagliate qui facciamo Ah, dai, non c'è chi, non ho poco Il compagno ha perso lo scontro Ah, giù è, giù è Ah, non sto, andrei Io sto qua Sto a prendere la sacca E' il coraggio, c'è il cuore da quello però Oh, l'uomo che sta andando a me Andrei, andrei, andrei Andrei, andrei Ah, eh, cazzo Fa buona Ehi, in danger da quello Tutti Peccato Ma chi sta? Ma chi sta? Eh, no, in batti Eh, lascia il stango Eh, per averci questo cazzo Questo trovo così James C'è un giro Ma Ehm L'ingresso Ma Ehm Nd Ma C'è un giro Ah, non c'è questa cassa buona mia cassa La piazza Ma non ho che cassa Questa cassa sti varete Ma non c'è, non mi piace Anzi, questo elicottero non mi piace No, ora ho scusato E ora ho scusato e l'ho vinto Per me non muovo È un luogo Per me non mi hanno visto E' una resa di coccoro Oh Oggi cosa c'è da cazzo? vai a cadere a destra l'ho d'indicato l'ho d'indicato l'ho d'indicato l'ho d'indicato vai 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 va cominciando a prendere uno e prendere il raffaele sarà di soldo all'interno non lo so non lo so non lo so non lo so no 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 mi sembra troppo un in un po' che è l'incasso venga venga che l'incasso riposizionamento profondo per la prese non lo so vieni qua non mangiare la mia piscina non lo so 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 che riesco ancora č un gruppo in subito il loro messaggio venisco Noi ci potremmo venire a prendere l'arma Io sono abruzzato tutt'altro Ehm, non mi prendo l'arma, non lo fai Ehm, si perchè comunque c'è la cima, non lo vediamo Attenzione, un membro del team è diventato un bersaglio ricercato Dovete proteggerlo Bene mezzo, andiamo Sì Non c'è la parola, non c'è nessuno Noi è quello che furia il solo c'è la cassa là dentro si ok Ah tu me o dendri? No dendri, dendri Oh dendri Oh dendri gen, ti c'è un po' un po' un po' un po' un po' Ah sì sì Ah se tu dai Bisogna fermare lì, bisogna fermare lì Lì così te lo fai con il camion Vai não tetto Non ba' lì Eh dispera quando lì andiamo guardate sicuro pullo qua l'è rettista guarda che cazzo non c'è a me hai avuto buono hai avuto buono e perciò hai avuto buono che porto oh Aspi facciate le domande cosa hai avuto ok voglio essere direttamente un lancio all'entropa eh sì andiamo qua andiamo direttano 25 direttano concentrati mi sparano oh vuoi sparare? ah sì 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 stanno la faccia da Gesù alto ma non è stato il bel che non è vabbè c'è vabbè c'è corta ieri corta ieri non è vero non è vero io ho fatto il bombardamento no vabbè c'è visto c'è pure il gas che è stato in NK gas in arrivo alla nuova zona sicura sono vivo sono morto a fuori oh seguiamo spPH qui 집ano a sinistra la coppa a sinistra la gotte di sinistra e diamante eh...ci capito mettete anche pure insonere seduta stai ma possiamo come muovo muovo via le vannanze al rete ci sei quasi andrì sono su lì voglio non ci capite la ritenga allora da me è pure andando o no? eh si è andando eh bravo bravo è una montagna lo vengono non lo so non lo so non sai che è a fare o si è morto? un po' ah non sto a fare si si oh grau ciao ma è il duro ma è il duro ma è il duro oh ma è il duro ah si oh ma è il duro oh ma è il duro ma è il duro ah mi sono sbagliato Sbagliato l'arma, ma non ci piglia 2 kg senza merito Fai giunghi, ma fai di potenza vostra Fai cimma Vieni duro E alzati 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 Alzati E 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 alzati a corti scala a fu... eh lo so lo so eh bella non sa nera la luce... e' lo ok and'accazza and'accaglia a fu... ma non lo calziamo a fuori non avevo fatto, ero da tre, voglio si era tutta la gang e una giù fatta io non riesco a capire, ragazzi, mi stai a spero una giù fatta e una giù tutta la gang vai, vai, ho fatto questo cuore ufo raggi a go go ufo raggi wow lu sono rimasto nuevo non è morto, non è morto non è morto tu culo non lo ho caffè io cambio addio ma non è mai ma io ci facciamo un uomo ciao ragazzi ciao 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 i ragazzi non mi aspetta che si sgancia non potremmo fare niente ma ci potremmo fare un uomo del 7 kg non è nulla come ti faccio io abbassare la città non mi aspetta un uomo del 7 eh il 7 è capito quale vai Paolo, tieni tu al lobby vai il seminatore e direi il 7 vai e qua pure ci ci diverti no mi dico che è quattro amici ah hatto hai una foto mi chiede un bacino dicevi vabbè 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 che sono divertente ti ha fatto ancora André? ma guarda che stai quando mi metto nella tavola eh che cazzo in coppia e ci metto a mezzare controllate armi ed equipaggiamento pronti all'anchieramento ah si c'è porta in casa la bellissima nemico in discesa nell'area operativa soldato nemico in arrivo soldato nemico in arrivo mi siete addestrati abbastanza adesso si fa sul serio vai c'è sim superstore mi viene a prendere superstore ah vai vabbè tanto che l'errore vuole ora sei spostato soldato indica un punto di lancio per il dito paro 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 pari vai vai ora muoio ok come ce l'ho fatto cosa ma tu sto passando proprio il giro a me eh ma tu non ne fai niente ti lascio su le cose là provanzare divirti puroccio la prima uccisione Grasilmario paulborò la cosa che stanno ho fatto guardando il controllo devastatevi che vuoi di uoheh serviva v passare pul 좋 spero in corpo è giù morti sono morto io ho dovuto rimanuarcai abbiamo preso il controllo oh gas 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 io sono pronto ma come fu sul basso ah si oh 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 vuole per voi oh andato andato c4 giù avvi avanzato alleato sopra di dico in discesa nell'area operativa oh 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 il nemico ha un avvio il volo è proprio ok il blocco il blocco non è nemmeno il blocco è un avvicinamento ma lo sto ma stiamo troppo lontano la zona è visto ma siamo a bollare qua io andiamo per la zona della stazione non passa a scegliere ma non nemmeno sono scissi c'è dei buoni a Falom ma non sono scissi ma non sono scopi ma non sono scopi e si vede sono scopi è un avvicinamento il suo sangue è stato un uomo guarda è stato un uomo non so che non è venuta a tutela, non mi importa che ciò quando fanno i secchi i secchi paura quando fanno i secchi paura non so che ci sono fuori 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 oh cazzo ok dai che cazzo ma rossi che c'è un scema va buttare il scema i sufranzo che sono pronto buttare il scema buttare il scema vado a tec e di rinforo che è un piatto pronti all'attattico ma questo sembra che la macchina in discesa nell'area operativa ma questa bandiera è caduta vanno vanno a riusciare vanno vanno a riusciare vanno vanno volete vanno è impegnata di è 2 attacco a grappoli in corso guardare soldato nemico in arrivo siamo al 75% oh ma la rossza a giz mennec no ma ne c'è miseri ma ne c'è miseri aiutano in mano rica ve che si muro escappa eeeh 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 lo so eeeh 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 oh nooo andai eeeh 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 c'è un grande roccio mamma mia, ho un po' un po' un po' un po' un po' ostile in discesa nell'area UAV avanzato alleato sopra di noi guarda, non c'è nessuno più HBC non c'è nessuno più secondo me l'ultimo killer ci ha fatto penso è fatto anche questo allora che stai caricando chi è? eh, paura ti senti che è caricato ma se fanno come non è bello, è così eh eh sì 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 casa vola caccavù va per questa sì ma poi c'è me la guarda è veramente bella l'estate perché stiamo in un pollo in un pollo in noi e tenendo le calcagne ah tremmo in un pollo in un pollo in un pollo in un pollo caccavù qua, con gruaggio è arrivato a 600 kg maronna mia 613 613 per esattezza per esattezza per esattezza l'uscizione è la più brutta dei miei metri che sono quella con l'arma posizionata sull'armi e equipaggiamento rotti all'affieramento ma che parla e la vado a correre da me a me non si legna la robina però c'è un pollo l'amico in discesa nell'area operativa oh ma chi si muove l'amico mi fa un pollo come non ho l'amico ostile in discesa nell'area occhio in alto mi siete addestrati abbastanza adesso si fa sul serio indica un punto di lancio per il team riconduci ora muoio inizio si fa la oi l'uomo di qua un'anima qual è un'aria operativa abbiamo il controllo devastate bersagni alla borsa medio calibro qui ma io non ci hai fatto ancora niente io non ho fatto la kille, ma fanno e no su questo, Rui eh, su questo, divustation oh, ma che hitterne non mi piace lo lo non si non 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 si è oh 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 No, no, no. oh la chi se sarka n'gob, vogliono non c'è l'amio oh Stai più in alto, il nemico ha un paio abbastanza, ciocchi all'attacca. Ah, il nemico in volo. Wow, aiuto, non mi stanno facendo fare niente, non mi stanno facendo fare niente. Ebbe che ha guerrito. Zero, proprio zero, mamma mia. Oh, 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 ma non è che. Oh, ah, il nemico in volo. Vico in discesa nell'area operativa. Vico in discesa nell'area operativa. Bersaglio da colpire, marcato. B-B-2-0, ricevuto. Attacco a grappolo in corso. Ah. ... Fammi lo tu, cazzo. ... ... ... Fuori la miseria. Andiamoci dentro! Oh, zuccarù! Oh, ormai! Ah, vabbè, giùazze l'ora! Guarda, come va! E vai! Oh, mi nemico in volo! Prunzia! Vico in discesa nell'area operativa. 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 Vico in discesa. il nemico ha un'ua via vuole il foro a pop vuole il foro a pop il nemico in escesa nell'aria non è via ah ma se ma c'è andato a pop si no ah bu no bra ma c'è andato a pop no ma fatti i cazzo tui mannaggia mi sento no no ma c'è andato a pop oh oh che ci sta a ca cazzo in arrivo zona sicura riposizionata oh ma come ha cazzo in arrivo i davresi riusciti a buttare attacca e grappolo angoppa la torre rimaffacendo bu 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 un gare non usci bersaglio marco graffolo lì arrivo il filip 3 ritrovato non da non da non da eh quanto? come? come? eh ora stai a farlo ok? adesso ci sono tutti in zona rossa come? come è possibile? ah ah non è così è così è così siamo tutti arrivati qui, non è morto se non ti fai se non ci fai parte non è così non è molto arrivato non è bene è morto Che cosa fai? Oh, è vero! Ah, sì! Voi, vieni a farci! Vieni, vieni a farci! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni! Vieni, vieni! Guardate! Vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Allora, vieni! Avvolto, vieni! chi c'è stai stai vedo il risultato è sempre lo stesso vedo vedo è sempre 51 a meno che qualcuno non dò gas né c'era ah non valgono vedi le kill non valgono sta tornando il re dai devo cucarli 94 è arrivato il 94 però lui sembra fermo il 51 non c'è nessuno 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 sai come è nessuno si oh loco oh il cane sta cominciando a rapigliare non c'è nessuno non c'è nessuno si si appena non c'è nessuno non c'è nessuno che ho finito non c'è nessuno che ho vissi ci state per l'ultima a p a 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 mp5 mp7 in attesa dello schieramento approfittatene per riscaldarmi l'area operativa a 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 bomba occhio in alto a 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